Quaglia con ripieno di salsiccia e nocciole. In una padella cuoci la salsiccia, sfuma con vino bianco e tritala. Poi in una ciotola spezza il pan carré, aggiungi il latte, la salsiccia tritata, il parmigiano, le erbe aromatiche, le nocciole tritate e l'aglio. Infine amalgama tutto per bene. Ora passa la quaglia, taglia le estremità delle ali e disossala mantenendo la pelle, così da lasciarla intera. Poi riempila con la farcitura. Legala con lo spago, spennalala con l'olio e salala. Mettila in teglia con delle patate e cuocila in forno a 190 gradi per 40 minuti. E ora impiatta. Wow, questo ripieno si sposa benissimo con la carne della quaglia. E te che ne pensi? Scrivelo nei commenti.